Tanti volti noti dello sport e del giornalismo sportivo partecipano il 20 ottobre in Palazzo Vecchio a Firenze alla presentazione della seconda edizione del premio giornalistico Estra per lo sport, raccontare le buone notizie. Tanti bambini a Siena in piazza del campo per festeggiare l'arrivo nella pediatria dell'ospedale e le scotte del Vein Viewer, lo strumento donato da Estra che consente il prelievo del sangue senza dolore. Anche Estra partecipa a Piazze d'Europa, in programma a Grosseto dal 20 al 22 ottobre. Il punto clienti di via Ximenez resta aperto nei tre giorni della manifestazione. Continua il sodalizio di Estra con il Follonica Hockey 1952. Estra, per il terzo anno consecutivo, è il silver sponsor della società, con il marchio della Multi Utility, impresso sulle maglie della formazione bianca-azzurra.